Nella scorsa consigliatura vi era stato un consiglio comunale sulla questione della realizzazione della metro leggera e su sollecitazione del sindaco che aveva una linea ben precisa sulla vicenda il consiglio comunale aveva deliberato di chiedere alla regione di apportare alcuni correttivi alla realizzazione dell'opera per far sì che la città non fosse divisa in due per far sì che viale mancini fosse tutelato nella sua funzione attuale anche di una funzione di aggregazione per cui mi sembra che le dichiarazioni fatte da importanti esponenti del PD facciano diano la misura di come il PD appunto si sia spostato sulle posizioni del sindaco Mario Chiuto e del consiglio comunale. Mario Chiuto ha un grande merito quello di fare una proposta alla regione Calabria e fare una proposta alla città di Cosenza che riguarda la rivisitazione dell'intero assetto urbanistico della città non è una questione soltanto attinente la metropolitana leggera ma è una questione attinente la metro il polmone verde che deve essere costituito su via le mancini e il fatto che debbano essere coinvolti in questo processo di modernizzazione della città di Cosenza anche i quartieri come via Popiglia e tutti gli altri quartieri e le frazioni della città di Cosenza. Salvatore Bruno per la Cineus 24 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 Salvatore Bruno per la Cineus 24